Se avete un intervallo di date in cui volete mandare vostro figlio in vacanza studio, questo file vi viene enormemente in aiuto perché vi ordina, come vedete in questa colonna, la colonna DA, tutte in funzione delle date di partenza, tutte le vostre destinazioni. Quindi qua vediamo tutto quello che parte da giugno, da fine giugno, in avanti fino a luglio e poi agosto. Quindi immaginiamo per un attimo che voi possiate mandare vostro figlio in vacanza, vostro figlio, vostra figlia, o i vostri figli in vacanza studio in soltanto questo periodo. In realtà quello che dovete andare a guardare è qualcosa fatto in questo modo. Cioè se potete mandarli, almeno in partenza dal 3 di luglio fino al 15 luglio, poi ovviamente loro torneranno il 17, torneranno il 29, vedete che avete queste opzioni. Quindi potete mandarlo in Spagna, potete mandarlo in Inghilterra, potete mandarlo in Irlanda, potete mandarlo in Spagna, di nuovo in USA, in Sudafrica. Ovviamente quindi queste sono le opzioni che vi darà questo foglio in termini di destinazioni. Poi se andiamo a ragionare per quello che riguarda le colonne degli aeroporti di partenza, vediamo che abbiamo tre tipi di celle con tre colori diversi. Abbiamo quello grigio, quello verde e quello giallo con delle cifre. Quello verde vuol dire che il pacchetto include già, come la gran parte dei nostri pacchetti molto spesso, il costo dell'aeroporto di partenza. Quindi per esempio se io volessi decidere di partire il 3,7, andare in Spagna a Barcellona, quindi in questo, e volessi partire da Bologna, vedrei che in questa posizione la cella è verde, quindi vuol dire che il pacchetto include a costo zero anche l'aeroporto di Bologna, così come includerebbe quello di Cagliari, vedete tutti questi qua, incluso Cagliari, incluso Catania, incluso La Mezzia, incluso praticamente tutti gli aeroporti. Viceversa, se volessi andare e partire il 5 per andare in Inghilterra a North Acton, troverei incluso l'aeroporto di Baren, troverei tanti altri, ma se decidessi di voler partire per La Mezzia, da La Mezzia, in questo caso ci sarebbe un supplemento di 150 euro. Dove invece vedete gli aeroporti con la X, o meglio, gli aeroporti che io vi sto segnando con la X, ma in realtà sono in grigetto, vuol dire che al momento non è previsto un volo, il che vuol dire che non è che non sia possibile volare, ma non è possibile volare già sapendo quelli che sarebbero eventuali sovrapprezzi. Quindi in questo caso, e solo in questo caso, il nostro consiglio è quello di chiamare il call center e chiedere, è possibile partire da Alghero per andare a North Acton? Quindi avremmo questa situazione e in questo caso il nostro call center prontamente vi dirà se è possibile farlo, se non è possibile farlo e sicuramente con quale sovrapprezzo. In questo secondo esempio invece andiamo a ragionare per aeroporto di partenza, quindi immaginiamo per esempio di essere in Emilia e voler partire da Bologna, quindi non avremo magari tanti limiti temporali per quelle che sono le vacanze dei nostri figli, vogliamo però scegliere delle destinazioni e delle date di partenza che siano comode per noi e che magari ci permettano anche di risparmiare qualcosa riguardo al costo di un eventuale upgrade di biglietto. Quindi fissando la colonna di Bologna e ragionando quindi per in verticale, vediamo che ci sono delle situazioni in cui è grigia, il che vuol dire che non è presente ed è soltanto a richiesta un eventuale biglietto aereo. Dove invece è verde significa che il volo da Bologna è sempre incluso a costo zero, dove invece il costo è specificato su una cella gialla, vuol dire che per l'appunto ci sono degli upgrade. Quindi per esempio se io volessi focalizzarmi soltanto sui pacchetti che includono Bologna gratuitamente, dovrei andare a cercare le celle in verde, quelle che vi sto evidenziando in questo modo, e poi spostarvi in orizzontale per andare a vedere che cosa trovate da questa parte. Quindi da questa parte in verde, per esempio, trovate l'Irlanda, con le varie opzioni dell'Irlanda e poi qua trovate ordinati per data, quindi 29.6, 6.7, 13.7, 27, le varie opzioni temporali. Quindi potreste decidere di partire per esempio il 6 luglio per andare a Cavana. Quindi ragionate in questa direzione. Stesso discorso si potrebbe essere fatto per altri periodi temporali, quindi abbiamo questa zona qua di verde sempre di Bologna, ragioniamo in orizzontale e vediamo che qui possiamo andare in Francia, in Giappone, in Grecia, in Inghilterra con queste date, anche qua ordinate per data, a seconda del paese in cui stiamo andando, quindi data di partenza e data di ritorno. Quindi potremmo decidere di andare ad Atene con una partenza dal 25.7, ritorno all'8.7, sempre a costo zero. Facciamo invece un altro esempio sicuramente molto gettonato, che è quello dei nostri amici che abitano in Sardegna. In questo caso molte delle destinazioni che sono seguite da Cagliari, soprattutto per un certo periodo temporale, sono gratuite. Abbiamo cercato noi proprio di alternare anche con Olbia questo tipo di partenze, però ci potrebbero essere alcune situazioni in cui c'è richiesto un sovrapprezzo di 150 o di 200 euro a seconda del periodo o della destinazione. Anche in questo caso il ragionamento che dovete fare è in orizzontale. Ragionate in orizzontale vedete che qui ci sono in Inghilterra tre posti, per esempio il King's College a Londra e con partenza il 2 di agosto. Quindi partendo da Cagliari per King's il 2 di agosto avrei un sovrapprezzo di 150 euro. Se non volessi il sovrapprezzo di 150 euro per il King's potrei per esempio scegliere questo intervallo che è verde, andandolo a vedere in questa direzione vedete che qua abbiamo un King's College che parte il turno precedente. Quindi il turno precedente nel caso di Cagliari è gratuito, nel caso del turno successivo invece è richiesto un sovrapprezzo di 150 euro. Grazie a tutti.